Wilm non sigla l'accordo sulla cassa integrazione in acciaieria d'Italia confermando la posizione espressa dalle organizzazioni sindacali circa 12 mesi fa. A distanza di un anno, dice Wilm, non è cambiato nulla, impegni disattesi. Abbiamo chiesto l'impegno a sottoscrivere la validità dell'accordo del 6 settembre 2018 da parte aziendale. L'azienda non solo si è rifiutata, ma ha anche fatto un'esternazione che neanche i ministri in questi anni avevano fatto, cioè il fatto che sugli accordi unilaterali del 2020 loro non si occuperanno di lavoratori ilve in amministrazione straordinaria per l'esistenza di clausole sospensive che permettono ad Arsenal Meta, in caso di rivendicazione sul tema, di rescendere il contratto. Inoltre, sul tema salariale, avevamo anche chiesto integrazioni aggiuntive a ratio della tredicesima, come ferie, pre e pro. L'azienda si è rifiutata anche sotto questo aspetto. Indispensabile per Wilm far rientrare tutti i lavoratori al termine del trattamento di cassa integrazione. Hanno detto che i lavoratori in amministrazione straordinaria non fanno più parte del bacino di Aceri d'Italia e quindi per quanto riguarda la Wilm di Taranto vengono prima i lavoratori in amministrazione straordinaria e quindi non baratteremo nessun accordo, non prenderemo nulla in cambio per mettere le teste dei lavoratori in mezzo alla strada. Non ci siamo mai fidati di questa gestione del siderurgico, dice Wilm, e faremo di tutto per mandarla via.